Alla vigilia della 33esima Assemblea Nazionale e dell'Ottavo Congresso Nazionale in programma a Roma il 21 e il 22 aprile, le nove sedi toscane dell'Hawaii, Unione Artigiani Italiani, dislocate dal centro alla costa tirrenica, in particolare nelle province di Firenze, Prato, Lucca, Pisa, Livorno e Siena, riunite per l'occasione a Firenze, hanno confermato all'unanimità, ai vertici dell'Hawaii Toscana, il presidente uscente, l'ingegner Claudio Nober. Oggi il Congresso ha deliberato la mia riconferma per il prossimo quadriennio, ovviamente è una nomina che deve servire a sviluppare, a continuare ancora a portare avanti il lavoro che è iniziato negli scorsi anni, nello sviluppare l'attività della nostra associazione e naturalmente è un'attività dove cercherò di coinvolgere tutte le sedi uai presenti sul territorio per definire le politiche di sviluppo della nostra associazione, quindi non è tanto una carica per mettersi un bollino, ma quanto un momento per essere un po' da portavoce di tutte quelle esigenze dei territori. Nel corso dell'evento sono state individuate nuove linee strategiche e territoriali per una Toscana che guarda al futuro e all'Europa, come ha confermato il presidente nazionale Uai, Gabriele Tullio. Claudio Nober ha svolto un lavoro eccezionale in questo periodo in Toscana, è stato veramente fautore di uno sviluppo che colloca la Toscana tra le migliori regioni in questo momento livelli numerici di sviluppo, sia di qualità di imprese associate che di sedi territoriali che stanno cercando di portare qualcosa di veramente importante ed innovativo sul territorio. Ricordiamo che da oltre 30 anni, al servizio delle piccole e medie imprese, artigiani, commercianti e liberi professionisti, l'Unione Artigiani Italiani vanta in Italia circa 175 mila aderenti. In merito ai finanziamenti a fondo perduto, significativa è stata la presenza della ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dottoressa Lucia Cavigli, dell'Istituto di Fisica Applicata di Sesto Fiorentino, e quella del dottor Riccardo Coratella del CNR di Roma, che hanno anticipato i temi dei prossimi bandi del CNR, rivolti al mondo dell'artigianato e delle piccole e medie imprese, tra i quali quelli finalizzati alla promozione della biodiversità, in linea con la transizione ecologica, secondo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Il Congresso, tra gli altri, ha visto la partecipazione di Taddeo Albanese di Confintesa, Chiara Masi, responsabile provinciale UAI Prato, nonché fondatrice della Federazione UAI Unione Donne Imprenditrici e Mamme, e molti altri partner tecnici, che hanno presentato le nuove convenzioni relative alla cyber security, ai sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, la formazione per la sicurezza sul lavoro in caso di utilizzo di attrezzature e rischi particolari, la formazione finanziaria e tante altre tematiche. Grazie. Grazie.